La vostra missione è distruggere Starfish. È potenzialmente cataclismico per gli americani e per il mondo. Ecco i vostri fratelli e sorelle per i prossimi giorni. Mi basterebbe solo un benedetto atto di ribellione per recuperare totalmente la vostra dignità. Sono pronti a morire. È mio padre. Ti farò uscire viva da qui. Per salvare il mondo. Io farò uscire te vivo da qui. The Suicide Squad. Missione suicida. Dal 2 agosto al cinema in anteprima. Grazie a tutti.